Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per incidente tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci. Sulla FIPILIP chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 2 Cassia, senso unico alternato per lavori di ripristino dopo una frana tra i chilometri 150 e 151 a Radicofani. Chiudiamo con i treni a causa di un investimento mortale avvenuto tra le stazioni di La Spezia Migliarina e Vezzano Ligure. La circolazione sulla rete toscana potrà subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!